Come velocizzare così la versione Windows 11 24 H2? Ovviamente in questa nuova guida su come usare Windows 11 al meglio e anche velocizzare e migliorare le prestazioni al massimo è possibile fare tutto in 8 passaggi. Quindi in questo caso andiamo prima su tasto destro su start qua sopra e vai direttamente su gestione attività. Ora andiamo su app di avvio e queste app di avvio possono anche rallentare il sistema tipo quando tu stai facendo qualcosa ci sono anche delle applicazioni avviate senza il tuo consenso. Quindi in questo caso noi andremo a disabilitare queste applicazioni quindi per esempio tasto destro sull'applicazione qua e fai disabilita tasto destro qua sopra fai disabilita stessa cosa anche qua sopra qualsiasi applicazione che tu hai la puoi disabilitare tutte le applicazioni app di avvio. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su installazioni. Installazione applicazioni. Qui troviamo tutte le applicazioni che non ci servono sul computer quindi in questo caso ho l'applicazione questa qua che non uso quasi mai quindi vado su tre puntini e faccio disinstalla. Disinstallo così questa applicazione. Poi se ci sono anche altre applicazioni che puoi disinstallare che permettono così faccio disinstalla l'applicazione. Se ci sono altre applicazioni che rallentano il tuo computer per esempio un'applicazione che non ho mai visto in vita mia tipo avvia app esperienze che questo veramente non mi interessa e posso anche disinstallarlo. Scendo fino a giù fino a trovare altre applicazioni come mappe. Meteo se non lo usi così meteo sul tuo computer puoi disinstallarlo. Questi qua sono tutti i driver che mi servono soprattutto sul mio sistema operativo per la mia scheda video e soprattutto anche per Windows 11 che sono molto importanti. I driver grafici e basta. Assicurati anche di aggiornare così la scheda grafica sul tuo computer e aggiornare anche i driver sul tuo Windows 11 quindi andando direttamente su Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti. Verifica disponibilità aggiornamenti e vedi se devi fare qualche aggiornamento su Windows 11. Cronologia degli aggiornamenti proprio oggi ho realizzato proprio oggi ho installato così l'ultimo aggiornamento quindi l'ultimo aggiornamento di Windows 11 24 H2 installazione riuscita il 10 di ottobre. Scarichi e installi gli ultimi aggiornamenti rilasciati. Se non dovesse bastare puoi semplicemente andare qua sopra proprio qua e qui c'è scritto risparmio energetico. Clicchiamo un attimo qua andiamo su via impostazioni risparmio energia consigli sull'energia metti in sospensione il dispositivo dopo 10 minuti quindi quando si applica questa modifica verranno aggiornate anche le impostazioni di timeout per lo schermo. Quindi se non usi il computer per un bel po' dopo 10 minuti si spegne così il monitor o lo schermo. Io ovviamente ho un computer una postazione qua con il pc fisso disattiva lo schermo dopo 3 minuti disabilita lo screen saver attiva la frequenza di aggiornamento dinamico per risparmiare energia. E chiudo qua. Scrivo qua sopra direttamente modifica combinazione risparmio energia vado su cambio impostazioni avanzate risparmio energia ed eccolo qua. Disco rigido proprio qua dove c'è scritto AMD Ryzen vado direttamente a mettere prestazioni elevate e faccio ok. E chiudo qua. Scrivi qua sopra direttamente visualizza quindi visualizza impostazioni di sistema avanzate e vai su prestazioni vai su avanzate prestazioni impostazioni. Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori oppure l'aspetto migliore e noi andremo a mettere prestazioni migliori e facciamo applica. Ovviamente mostra ombreggiatura del puntatore del mouse mostra ombreggiatura delle finestre oppure mostra anteprime anziché icone quindi mostra contenuto della finestra durante l'operazione di rascinamento. Quello che mi interessa di più è visualizza quindi utilizzo ombreggiatura per l'etichetta dell'icone sul desktop questo e faccio applica. Smussa gli angoli dei caratteri dello schermo come puoi vedere si vede veramente malissimo i caratteri dello schermo quindi faccio smussa gli angoli. Ora passiamo direttamente al nostro disco quindi clicca qua sopra, esplora risorse, andiamo su questo pc, disco locale c, tasto destro sopra, mostrato opzioni, proprietà, strumenti. Questa opzione consente di individuare errori del file system nell'unità e facciamo controllo, analizza unità. Dopo aver analizzato così il disco possiamo direttamente fare l'ottimizza quindi ottimizzazione, deframmentazione, unità possiamo farlo direttamente su tutti i dischi che abbiamo nel computer. Non sono stati rilevati errori facciamo chiudi, ottimizza ed eccoli qua possiamo ottimizzare tutti i nostri tutti i nostri dischi quindi io ottimizzo solamente il disco dove tengo Windows 11 faccio ottimizza. Molto ottimizzato posso chiudere qua e faccio ok. Quando si tratta di aggiornare così i driver della scheda grafica ovviamente assicurati prima di vedere che tipo di scheda video hai nel computer quindi scrivi qua sopra direttamente dxdiag. Seguiamo così il comando vai su schermo raccolta informazioni ed eccolo qua. Questa è la mia scheda grafica 3070 e nvidia quindi vado direttamente su google e vado direttamente a scrivere drivers nvidia download. Scarica i driver ufficiali nvidia ed eccoli qua. Scarico direttamente un driver grafico per la mia scheda video nvidia. GeForce serie 30, 3070, Windows 11, faccio trova. Cerco così l'aggiornamento da fare, scarico e installo e basta. Driver GeForce Scheme Reti, vedi, scarico e installo e ho fatto. Ovviamente uso il programma nvidia app per aggiornare sempre la mia scheda video. Basta che scrivi su google nvidia app. Tutto qua. Ed eccolo qua. Driver. Così devi scrivere su google nvidia app download. E scarichi così la versione beta e la installi. Game ready drivers. Gli ultimi driver rilasciati il primo di ottobre. Drive game ready per i giocatori. Driver studio per chi usa il computer per lavorare. Per aumentare ancora le prestazioni sul computer. Puoi semplicemente anche eliminare i file temporanei. Quindi elimina file temporanei. Ed eccoli qua. File temporanei. Clicco sopra. Fa così un'analisi. Facchetti driver di dispositivo. Ed eccoli qua. Abbiamo più o meno pulizia di Windows Update 16GB. Perché io ho fatto anche scaricato e reinstallato da capo Windows 11 mantenendo tutti i file. E facendo gli ultimi aggiornamenti una bella pulizia completa con tutti i nuovi aggiornamenti rilasciati su Windows 11. Io ho ancora i download di questo Windows Update. Per ora me li tengo. E tu puoi rimuovere i file. E chiudiamo qua. Come ultimo passaggio puoi semplicemente disattivare tutte le notifiche. Quindi andando su notifiche. Impostazioni di notifica. Ed eccoli qua. Ottieni notifiche delle app ed altri immittenti. Chiudiamo qua. Non disturbare. Lo attiviamo. Attiva automaticamente lo stato non disturbare. Puoi selezionare così gli orari. Imposta le notifiche di priorità. Concentrazione. E basta. E basta. Abbiamo anche l'applicazione che si chiama Xbox Game Bar. Impostazioni Game Bar. Ed eccola qua. Consente al controllo di aprire Game Bar. Faccio disattivato. Impostazioni correlate. Grafica. Ottimizzazioni per i giochi in modalità finestre. Impostazioni grafiche avanzate. Ed eccola qua. Frequenze di aggiornamento variabile. Tutto attivo. E consentire a qualsiasi applicazione che tu usi. Scegliere la scheda video. Per il gioco. Oppure reimpostare. E scegli la scheda video. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao. Ciao.